Continua a migliorare a Bitonto il bilancio coronavirus. Come ha comunicato il sindaco qualche giorno fa, in città si contano al momento tre positivi, tutti assistiti a casa. Un quadro roseo che fotografa la situazione prima del 4 maggio. La paura del contagio però continua e cresce nella fase 2. Approfittando delle libertà concesse dal nuovo DPCM, i bitontini infatti hanno deciso di godersi il caldo di questi giorni e uscire qualche volta in più del dovuto. A nulla è valso poi il protrarsi della chiusura della villa e dei parchi cittadini. I ragazzi hanno assiepato Torrione e Piazza del Centro Storico, spesso non usando neanche le protezioni e gli accorgimenti necessari. Gli effetti dei nostri atteggiamenti si scopriranno solo nelle prossime settimane, ma è bene ricordare ancora una volta l'importanza di indossare la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi, mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro ed evitare assembramenti e uscite inutili. Raccomandazioni da rispettare anche nei luoghi di lavoro. Alcune aziende infatti hanno ripreso le attività, unendosi a bar e ristoranti che dopo essersi messi alla prova con le consegne a domicilio ora sperimentano l'asporto. Alcuni di loro si sono completamente reinventati, modificando addirittura la loro attività commerciale e trasformando le vetrine in veri e propri banconi per servire i clienti. Altri hanno sistemato l'ingresso dei tavolini per evitare appunto che la cliente la entri nel locale. Si moltiplicano anche le applicazioni per le ordinazioni e la scelta dei menu. Dal 18 maggio torneranno a lavoro anche i commercianti, parrucchieri ed estetisti. Grazie alle indicazioni del governo e all'ordinanza emanata dalla regione Puglia infatti potranno riaprire sia i negozi al dettaglio che i saloni di bellezza.